Onorevole Molteni, la Lega Nord continua la battaglia contro l'indulto, mentre il Partito Democratico che cosa fa? La Lega continua la propria battaglia contro quei provvedimenti di indulto mascherato, che fino ad oggi il Governo maggioranza, con la compiacenza da parte dell'opposizione, hanno proposto. E mi riferisco in modo particolare al provvedimento sulle pene alternative al carcere. Oggi, è notizia di oggi, che un parlamentare del PD, l'onorevole Gozzi, ha presentato una proposta di legge per chiedere al Parlamento l'indulto e l'amnistia. Tanto per intenderci, quell'indulto varato, voluto dal Governo Prodi nel 2006. È uno scandalo, è una vergogna, è quello che noi abbiamo sempre temuto, cioè che affrontassero il problema del sovraffollamento delle carceri, inizialmente con dei provvedimenti di indulto mascherato, consapevoli che con questi provvedimenti non avrebbero risolto il problema del sovraffollamento delle carceri e sarebbero arrivati, prima o poi, a presentare un vero indulto reale. L'hanno fatto, l'hanno fatto oggi, è uno scandalo, è una vergogna e la Lega è pronta a fare una battaglia durissima. Primo perché l'indulto è un provvedimento di indulgenza nei confronti dei delinquenti e dei criminali che hanno commesso reati che verrebbero rimessi in libertà, con massimo spregio e disprezzo nei confronti delle vittime dei reati stessi e l'indulto mina clamorosamente il principio di sicurezza. Noi siamo pronti a fare qualunque tipo di battaglia e a porci sulle barricate per impedire che un provvedimento di indulto vergognoso, inutile e dannoso possa trovare applicazione. Temo, come nel 2006, che saremo gli unici a fare questa battaglia, ma la faremo consapevole della certezza e della bontà della nostra azione.